no video c'è live vai metti pronto tanto Quando si uniscono le personcine C'è una persona Chi è? Sei tu No Non so Sicuro che non sei tu Chi sarà mai? Sicuro al 100% Oh 2 Ciao Vuoi giocare con me? Passami il tuo nome nella prossima partita appena sarò in lobby E così io ti cercherò Su Amici di Epic Ma chi? Io Niente di Di Fra Francesco Ma si chiama Francesca Sì Fra Sempre a quartiere Sì Ok No No che sfiga No Comunque di solito faccio due live ogni giorno Per Per perderti Sì di solito No ho detto di solito Di solito faccio due live ogni giorno perché Una Dice Tra virgolette mattina Cioè pomeriggio E una E una E ora E anche me mi dispi Cosa anche te? Niente Che ha scritto mi dispi E gli rispondo anche me mi dispi Fa pro Sembra Scarsa Ah fa pro Ah no lo so In casenza Forse Loro Non lo so Dice Il riso Dice Che è fra pro Tra 008 Pro E' Scarsi Ah Ma Chi se ne frega Non me ne frega nulla Ho scritto il gioco con gli scritti Gioco con gli scritti Io Lengenamente Non lo so Perché non l'ho mai visto Tu Quindi Vuoi la discarica La crea Di scarica Aspetta Riso Riso Devo sempre fare così con te Sempre Ogni volta Mi dispiace Però Se vai così Non ci posso fare tanto Togliamo Ah ok ovviamente Ah ok ovviamente Scarsa Ti stavo per disattivare Banname No 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 Se dice ovviamente Scarsa no Ma tanto sono banni Che entra con altri 2000 account Si esatto Quindi Non sto mica Stai giocando con L'impulso Da torta Ma hai trovato Lo scout No Un oro Ma di oro Cos'hai trovato Scusa Minicon Che sfiga Da Cioè Ora È comparso L'ota Egoin Che è sempre Risanzioso Che mi fa Non mi puoi bannare Tipo Della serie Tipo Gli occhieri Io sono Dappertutto Non mi puoi Cancellare È tipo La stessa cosa Non l'ho trovato Ho trovato solo Bolt Action Fusceli di precisione Automatico Quello da 16 colpi La scout A me A me Dice Semi Automatico Ma si chiama scout No Semi Automatico Fammelo vedere Sicuro che non sia lo scout No è vero Ho il Bolt Action Comunque Ho il Bolt Action Se ti piace il Bolt Action Altrimenti lo butto qua Ho detto Bravo Uno Versus Uno Con fra Zero Zero Ma te Non sei neanche Moderatore Quindi Perché Che cavolo Scrivi sta cosa Comunque Era questo Perché non si chiama Più scout Boh Tu c'era in inglese Il gioco No Control Tecnicamente Se la Se la Tommy Gun Ho 20 account Ma numerati Proprio Se numerati Ehi Ehi fra E se ti Bannassi Tutti i 20 Gli account Gli account Mi volevo mica Uccidere No Il bello E che sotto Non sapeva Che ci fosse Tutta Stava Ma Possiamo Andare Vai Vieni Vai Oh No Monaco Senti Sei Intrappolata Comunque Monaco Ok Quel monaco Che sbatta La porta Vieni Stupido Amiga Vado Fammi Nesca Ti odio Ciao povero Ti odio Ti ho fatto un regalino Chiunque Chiunque sia ancora in live Condividi la live con tutte le persone che conosci cane, gatto, zia, zio Anche il gatto Ok Vai Condividi la live con il gatto dei vicini Ok Lo faccio scivito Va bene Bravo Mi lancia il video al gatto Il nuovo modo di condividere i video Lancia un nuovo tipo quando si vengono le pubblicità di youtube Un nuovo modo di condivisione Ho 20 account e se mi banni non puoi farmi niente Eh lo so Orrella nega Haha guarda quanto scudo ho Ha sfigato, sfigato, sfigato Ma io ce l'ho intero, pieno allo scudo Cosa c'è in drammatena è metà vita Io invece gio mentre vi la vita piena Hahahaha Ehm 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 Io invece gio metto vi la vita piena Ehm chi ha io ha ucciso uno da doppia odio mi hai ucciso cringe potrei fare una live stream no non farla che poi mi arriva tutti gli spettatori mi rubi gli spettatori da un casino mi odio ucciso un altro che ha giocato ricetta io vedi quanto sono forte con il volto un altro nemico no e di una persona ballare vediamo che mi ha parlato un robot dietro minseca ucciso però da 50 metri tipo quando airman chiama l'armatura la stessa cosa cosa che aveva scritto che ha cancellato il messaggio di tizio no dice che ha cancellato il messaggio sì perché sono tipo sei messaggi che non sono molti messaggi cancellati non ho idea non so se da te o da lui però lo stesso no io non e non cancellare i messaggi degli altri no 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 vuoi essere solo un birra drogato il maledetto è una canale famiglia friendly fai uno spettatore senza contare me è il mio record tacito wow vieni drogo di foca la è vero che primo mi prendi ahhh b b b b are tutto un prank un prank di the show it's a prank it's a prank it's a prank no ma dirlo più volte guarda ok it's a prank 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 non ci sono più nemici it's a prank it's a prank it's a fucking prank basta oh è un canale family friendly it's a prank it's a fuck prank mi hanno chillato a caso io non ho fatto nulla sto per chillare uno ci vorrà solo una vita però it's a fucking it's a prank c'ho solo un prank a disposizione ma cosa sono tipo i giga e fatti il contratto giga illimitate prank illimitate no perché è troppo costoso io sono un grande e cane bagnalino cioè ci hai messo 25 anni per scrivere per fare quelle emoji no ne ne devi vedere la chat risa che due sbatte non c'è neanche la live aperta ma come tu sei un moderatore no io sono un monaco sai sai che scherzo che prank ti faccio guarda ti faccio proprio un parent no cavolo dai no no l'ho preso no mi sarebbe infatti l'hai fatta l'hai fatta la miss a ruba pure i match io abbandono alibaba alibaba e 40 cagoli no non ci sono le facce le moti anche perché ho 7 paracadute un cavolito io mi arrabbio molto con te schifoso ha scivolato continua a scivolare chi tu c'è la tommy gun me la conta come mitraglietta ok va bene se ti insulto un'altra volta fra se ti insulto un'altra volta guardo la chat e gli concello i commenti chiamo la polizia postale e ancora con la no hai colpi d'assalto hai colpi d'assalto c'hai fatto una figuraccia qui hai colpi d'assalto la mitraglietta c'è la tommy gun ma se sono già in live cosa riso ha detto fra io chiamano di un game e lo sa ma sono già in live live non già non sa parlare chiamo la polizia postale comunque sai che fra dice che crede seriamente che angelo sia sia un sia sia cioè li voglia rubare l'account ma che cazzo boh è sicuro che era lui appunto io gli ho detto non è lui perché lui non può cioè non farebbe male questa cosa appunto è quello che gli ho detto dobbiamo fare questa elimina avversari in diversi luoghi indicate è l'ultima tua missione di prestigio di road trip si anche io ce l'ho ma viaggiatore eterno ti piace si di più andertesche eh si vabbè è ovvio frank morcy mi sta auditando perchè volevo rimostrare chi? si che? frank morcy chi è? boh si è uscito un nuovo no 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 non devo sponsorizzare stavo cantando quindi ti davo la copia ti scusi qual è il numero della polizia postale? non ne ho idea siamo talmente scarsi che non lo so quale sarà il numero della polizia postale? dobbiamo eliminare persone dobbiamo eliminare people in diversi luoghi capito? quindi dobbiamo eliminare obliterare people ma non mi intendo la carta di credito andiamo a prendere paypal non intendo paypal vado a prendere il robot e vengo da te non credo che il numero della polizia postale sia 4321 non ne ho intendo non ne ho intendo sinceramente perché decidi no? no 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 a caso a caso boh boh se è vero chiamala 4320 sai che se li chiami senza senza sai che si chiama qualsiasi servizio senza ma lo chiamo io li chiamo fra 00 lo so lo so ma sa ti dicevo sai che se fra 00 chiama una chiama appunto la polizia postale e non c'è realtà nulla la polizia postale può dare una multa di quanto? di 3 euro no di tipo 400 euro sono e oh portami con bravo mi stai già aspettando come un cane fuori dalla casa mi stai già aspettando come un cane fuori dalla casa perchè sti paragone? ah 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 perchè sti paragone? nooo se ne sono andati tutti e due dalla live nooo solitario ma sarà ah no è ritorno forse è ritornato non lo so ah mi dice il numero A non lo è barbone che brutto insulto barbone divertente come insulto barbone c'è un nemico qua sopra c'è un nemico qua sopra gg mi vai prendere la mira sbagliata dove faccia? eh vabbè non è questo puogliarlo dove è andato? giù eccolo questo è scarso grande barbone che sei altro che vuole che sai altro insulti belli presi da google palesemente citi per scoprire ma guarda che ho messo a testa cosa per c'era una barba molto grande quindi ho detto oh ma quello un barbone non mi piace sto albero ok adesso mi piace mi continuo a fermare con i con i ragazzi barbone che sei intanto qua 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 preparati a sparare non c'è nessuno eccolo si qua è in cucina cg ci stanno sparando e qua spara lì con il pompa anche non so che quella che quella spazzatura fosse il nemico proviamo ad andare a lande letali non c'è più il barbone c'è qualcuno secondo c'è no barbone cifo barbone cifone leone cifone è diventato barbone cifone ma questo è un povero è un ubbetto guarda guarda come corre io lo lascerei in pace però no 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 per carità sì ma non ero nella città indicato è appunto però chi se ne frega mi piacete eliminare il nabetto io lo vorrei mangiare un posto oppure l'avrei seguito fino alla morte un like per un obbino con i miei di la linea con tutti i tuoi amici tu non ha nato giro tuo cugino il fratello di tua nonna di cucina del postino del panettiere della si sparano con la stromberga hanno sbagliato il gioco scusate sono morto la stromberga continua sbagliare il copione non esiste la stromberga su fortemente il massimo esiste su gta daia cos'è la stromberga è una macchina di gt 5 che è un tc si chiama stromberg però c'è un tipo che la chiama la stromberga la stromberga madre lusia la slumberga oppure come che era l'altro più 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 no l'altra si chiamava no non mi viene la stromberga la stromberga madre lusia madre madre lusiosa l'ho già fatto il barbone l'ho già fatto il barbone la lalala lalala ai quali dei colpi pompa si madre lusia sai quanto sai quanto spero che rimettano nel gioco quella modella Se la rimettono ci faccio subito appena esce praticamente una live La modalità degli aerei, la Aero Real Te la ricordi? Era bellissimo Infatti io la vincevo sempre L'epilogo mi ha detto che in quella modalità tu eri il mio copilota No, quello che guida è preferito però Il tuo pilota? Sì, preferito L'epilogo per fare i repiloghi delle season ti fanno stalker A me non l'hanno mai fatto il l'epilogo Perché devi registrarti a Epic Games e devi comprare la season per farti fare i repiloghi Eh l'ho fatto Mi sono registrati a Epic Games altrimenti come faccio a giocare Ti dovrebbe venire l'email Ah, sul telefono Sì Però una cosa che non è che devi Cioè puoi anche non fare l'account di Epic Games Però lo stesso puoi giocare in teoria No, no, devi per forza fare l'account Se vuoi salvare i dati Quello sì Se non vuoi salvare i dati No, devi per forza Altrimenti come ti chiami sul gioco se non salvi con la tua email Devi per forza E comunque devi per forza salvare i dati Non si è mai visto un giocatore che non sono passato Sì, magari Ma magari qualcuno non vuole perché è stupido E allora non gioca a Fortnite Va a giocare a Call of Duty Black Ops Ancora mi è caduto stavolta davanti il robot E vado a prendere Robot, vieni a me Porca tutta, non posso dire Oh, family friendly Ah, scusi Che poi me ne ero dimenticato anche dal family friendly Io muoio Addio Oh, l'ho eliminato almeno il nemico La stromberga Cosa me lo fai? La stromberga Cosa? 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 Palla, su Cosa? 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 Ah, non sto capendo io cosa, cosa lo chiede a lui Cosa? Cosa? Non so, io ti sto dicendo cosa Cosa? 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 Eh, family friendly Ma ho detto what? E basta, non l'ho detto intero Cosa tutto? Dai, dai Cosa tutto? Dai amichetto Ma cosa cosa? Ma non lo so, ma mi hanno appena ciò che in oto Non so come vai Ma non capisco perché dici cosa? Perché ho scritto me lo fai per e poi tutto Cos'è? Cosa? 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 Non ne ho idea Secondo te perché te lo sto chiedendo? Non lo so Sto arrivando da te? Amico! Ma dove sei andato? Fuggiasco! No! Mi fai a raggiungere! Non mi prenderete mai! Sono un pampino libero! No, ti odio! Eh, vabbè Ormai la community è così antipatica che Ma lo so Fai salti mortali per distruggerti il robot Per dire Tutto il robot Sono simpatico Sono simpatico Tutto il robot Oh lol Ma che Che bello come è atterrato sto robot Io mi chiamo cagnolio Dimmi dove? Come? Mi chiamo questa estate? Sono qua! Friends! Vieni sotto! Ci sono io! Veloce dai! Friends! Sì! Oh, due di vita! Oddio! Oddio! Mi fanno danno! Ah! Sono qua! Sono qua! Sono qua! Sali! 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 Uccidiamo! Guarda che distrugge il pallone Uh uh Ma anche se era inutile Buongialla No! Come è? Come ho fatto a non ucciderlo? Io sono atterrato sopra L'ho schiacciato no ma quanto pareva ancora vivo era una molla e si sta bloccando giorsi buongiorno per caso ho fatto l'ultimo di oggi g bravo balla robot dai vabbè lo elimino eliminalo però il messaggio dai eliminalo il messaggio per favore grazie grazie ma scrive male live ma tanto va bene devo iniziare a sfumare così si leva ma quanti anni ha che non si scrive eh quanti anni ha che non si scrive non te lo posso dire io ok fatto dei mosso se non lo scrive lo ah come non ti interessa quanti anni ho che facciamo la prima uguale mettano la modalità solo robot sarebbe strafiga che ho trovato di nessuno ah no che cosa facciamo dai dimmi cosa facciamo ma io non ho mai detto che tu non sai scrivere ma quando si scrive quando si scrive ma cosa c'era dai smettila ma io non ho mai detto ma comunque lui è forte come me oh fra 008 cose vuoi una fidanzata c'è una un'amica che è disponibile ti scrivo in 7 consigli no ma va manco te lo dico allora si scrive metti pronto tu 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 aspetta che devo scrivere come si scrive la pizza che potrebbe essere cosa c'è a sussurrarti si si chiama così metti pronto dai aspetta che ti scrivo come si chiama guarda la certa se in caso è un fly ah no ancora lì oddio perfetto timing praticamente la 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 come si chiama che lui lui non te la posso dire io te la puoi dire a lui non io che non devo dire a mano che non devo dire a mano ma il tuo nome lo so già bambi cheoo che approvedi che 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 no eccomi scusa io dormite rite 6 non c'è roba dove ha la mia vita è stato preso ci sono dei nemici qua anche lì sono segnati i puntini rossi nemici lo so lascia ma io sono morto sono da un amico c'è un nome post sono scappato era una casa in cui avevo lendato e c'era un amico pompa benissimo no vieni 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 cosa c'è perché we are the champions my friend c'è il robot ho visto ci sono i bombardamenti 8 pro dobbiamo cercare di salire le salire sul suo robot resti nel locale col telefono ma poi spagagli robot e vabbè se l'ha spaccato da solo ha sfigato fai schifo se qui si muore per sempre poi anche poi qua ho detto se quando si muore che qui si muore per sempre sembra una cosa brutta dov'è che sta morendo un cane sono l'ambulanza hai colpi r l'ambulanza ha bisogno di colpi r io so a me c'è bisogno di un compagno si che poi l'ambulanza è anche un po un assassino 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 dai hai un po di colpi a r dov'è che si muore per sempre si è bellissimo che poi ci stiamo tipo muovendo tutta la tutta la tutti esatto si sta muovendo contemporaneamente comunque fra 008 ha scritto no la sua amica che è disponibile per essere fidanzata come si chiama dimmelo te l'ho scritto prima nel sussurro no a me l'hai scritto eh eh devi scriverla in chat e perchè lui non può giocare eh no prima l'aveva detto che non poteva giocare eh hai raggiungere appunto hai raggiungere eh no ahia grande amico top player grande amico top player la rocca lino ci dovevamo muovere tutti che insieme ah ci stiamo muovendo tutti insieme è un'orda oh devo curare devo curare io mi devo curare grande amico non morire non posso dobbiamo tutti essere vivi e ci dobbiamo muovere tutti insieme c'è c'è questa squadra da quattro giocatori che si sta muovendo completamente contemporaneamente no raga ehm fatemi dei muri 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 grazie sopravvivi puoi vivere tu no no le bende le bende le bende no ce le vedo le ho date tutte però bene no vabbè 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 guarda come sono sparsi i compagni eh vabbè ma ci dobbiamo riunire cavolo perché non migriamo alla safe zone guarda ci stiamo riunendo per migrare alla safe zone stiamo migrando proprio è migrante ma no vedi vedi si muove tutta la massa c'è uno che è rimasto indietro se vedi a borgo bislacco c'è uno che ne è rimasto indietro te sei il cecchino del gruppo si anche se il gruppo si dovrebbe morire di un robot si stanno curando io lo uccido quello quello è andato mi dispiace uno c'è uno ha ucciso voglio uccidere il medico del gruppo eh hanno ucciso il medico ha ucciso il medico corretti carmena mano ah su tu si mi stanno per uccidere c'è una marea di loot qua vieni aspetta curatemi non mi volete curare grazie hai delle bende si si ma che cosa sei una trottola aspetta no vabbè tre mi bastavano tre mi bastano esattamente i nostri amici stanno morendo in battaglia hai dei razzi oh oh arriva l'orda da quella parte oh guarda l'orda oddio ci stanno smangiocchiando tutte quelle persone dobbiamo andarle ad aiutare è tipo un virus ok c'è morte e vabbè cosa sono mi ha pigliato in testa col barretti senza mirare mi ha pigliato in testa col barretti senza mirare anche se anche a me cavolo io uscirei forse me dai ma non ci rianimeranno magia tanto no guarda l'orda di me però perché che ha fatto ho detto che è nabbi mincega 30 persone dove credo ho letto 30 dove che stavano lì che erano rimasti vai abbandona abbandona no 21 vedi è quella la vedi è in viola nella chat vai metti pronto ci dobbiamo prendere subito un robot saremo robot della squadra va bene ok io mi immagino che è figo tipo tutte e 28 le persone che si muovono e in mezzo a loro c'è il robot te lo immagini la marea di persone ti immagini c'è proprio la marea di persone e tipo davanti o dietro c'è il robot che si muove lentamente te lo immagini che è figo un dato di persone esatto ora dobbiamo subito precipitarci al robot e andare in mezzo all'orda va bene dove è il robot e vediamo ora dove va vai mettiamo tutti i puntini a laguna così tutti vanno lì oppure tutti andiamo a prendere il robot dobbiamo subito andarci la squadra intervento robot oh ora siamo meno in massa o tutti vogliono andare a laguna languida no sì sì siamo molto meno in massa no tutti vogliono dobbiamo dobbiamo raccattarli tutti capito intanto che va la safe zone vabbè tanto non c'è nessun altro quindi lo prendiamo tranquillamente il robot artigliere adesso è l'artigliere della squadra o vuoi farlo tu? no no vai 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 faccio io faccio io no mettiamo la tua cosa che magari quando vinciamo è più bello nel ballo non c'è nessuno guarda papà quelli di scalini sono pochi quindi non li possiamo raccattare c'è un pollo polletto? dove è il polletto? polletto? no polletto nessuno ci sono gli uccellini volanti anzi due polletti due polletti dobbiamo andare subito a dare una mano alla patria ci sono due praticamente qua due robot qua shit ha detto che ci sono due polletti qua mmm spara il drone ah grazie vedo che sei quale è il drone questo qua? no no il drone vogliamo qua al centro dentro? ma mi sa che non risaliamo più se vogliamo dentro vai chi ce ne frega secondo me vola ah ma c'è la corrente d'aria mi sa eh eh lo so è appunto il volo perché i missili non volano no no ma io andiamo così con il turbo usano eh non ce l'avevo carico no perché usati i missili mi ha respinto all'indietro ma perché ti respingo indietro? si quando spari i missili al muro mi respingono all'indietro ah in impianto apprezzo oh guarda l'orda la sponda del saccheggio ci dobbiamo unire a quella eh vabbè comunque quelli di scalini se ne sono andati e li potremmo scortare noi visto che sono in pochi vai uniamoci al gruppo che di scalini scatenate qua li guardiamo da sopra per evitare che nessuno muoia passate tutti ora stiamo arrivando alla vera guerra eh e gli impianti a pressione sono in pochissimi sono tre due due dobbiamo ancora entrare in safe zone nemici c'è un attacco c'è una c'è un attacco a sud c'è un attacco a sud c'è un robot c'è un robot vabbè pensiamo agli altri nemici pensiamo agli altri nemici che hai visto va bene ce ne dobbiamo occupare potrebbero ciocchinare tutta tutti i nostri uomini vedi nella minima c'è un montone compa vi aiuto qua qua sono qua sono qua sono finisci da dietro da dietro salta 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 che sei un bel coniglietto piccolino oh c'è un altro robot guerra tra robot no vai no cavolo ne ne vado via ecco due no 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 dai dobbiamo vai o forse i nostri amici c'è un'orda comunque sempre lì quindi forse riescono a prenderci la scheda dovete andarli tutti addosso lo so potevano farcela cavolo che cacchetta da quanto tempo non c'ho conto non c'è un vero non è però lo scopo no non mi sa che la nostra carta non la prendano sono occupati in una lotta tra fronte dov'è sei no perché perché tu sei soldato per vai che mi hanno venuto di tanto che è tuo scappo onde guarda metti pronto scuola 33 33 trentini entrare in in trento tutti e 33 trattorellando non c'è la faccio io voglio mario Mamma mia It's a fantastic It's a fantastic It's a fantastic Ti hai scritto ma sei fatto Forse It's a fantastic Chi lo sa Magari lo sa o no magari lo sa Ah devo pulire gli occhiali aspetto Ho pure pulito i preghiamati Cosa? Non ho capito cosa È sempre la stessa cosa Ma dai Dobbiamo provare lo stesso schema Dove sarà ora il robot? Tutti si sono buttati circa scalini Ma dov'è il robot? Ok Il robot non c'è Come non c'è? Ma È scomparicciuto Cosa vuol dire? E poi che ne sai se c'è o non c'è l'ha Non ci stanno i robot? Se ce l'hai uno Se ce l'ha o non ce l'hai Non è che vuol dire che sei scarso A parte che non ce l'ha però Di cosa sei parlando? Non Non spreco neanche fiarto Ma Oddio Dai Si è glicciato con salva al mondo Vieni a vedere una cosa Si è glicciato con salva al mondo Puoi cercare in questi Si è glicciato con salva al mondo Non ti dà niente Esatto Però si è glicciato con salva al mondo Secondo me Epic Games è fatto bene Tantissima Negli armadi almeno non si può cercare Meno quello Addio Io mi suicido Guarda Addio Lo so Ti odio ce n'è uno Mi ero dimenticato Mi ero dimenticato che Buttandoti dalla zipline Non per Prendi Ce n'è uno Ti odio Ma io mi ero dimenticato che Buttandoti dalla zipline Ma come? Ah ce n'è anche un altro di overboard Infatti stavo per dire ma Sono immortale Wow vado a buttarmi dai palazzi La squadra in overboard Siamo la squadra Oh Rift Rift E usiamo rift Che cosa Cosa fai? Non prendi a rift? Oh yeah Mi sono schiacciato Mi sono fatto male Quanto sei andato lontano tu con il rift? Poco Ma perché io so Usare Ah no No niente Cosa hai detto? Cosa caso che neanche No niente Così Ma ormai sto gioco è diventato Titanfall con i robot Benvenuto a città pinnacoli Grazie Stanno tipo lì Mimici Ecco davanti a te Uno Che vedo di più la mia testa? Eh? Ma quanta vita avrà ora qual tizio? Ah ma tutte le skin femmina diventano lei? Dai però sono in 30 e io abbandono Sti scarsi Più scarsi F tra 008 Schifo Che due scatole Io penso fosse uno Non pensavo che fosse tutti lì Ma infatti non ha capita perché già detto che sei scarsa Non ho la sola tutta a casa Ma non ho la sola tutta a casa Ho sempre gli occhi chiusi come a Tokyo Scuscu Copyright No è da 10 secondi in su copyright Io la denuncia Vai Metti pronto Stavolta ce la possiamo fare Città In dire parola esce Io scrivo su whatsapp se è un'altra Ma si può Per invece che regalare il pass battaglia puoi regalare livelli No What? Eh? Cosa? Ah Che figo Cosa? Niente Cosa? Ah Niente Ma che c'è Ma io adesso ho paura Non lo so neanche Aglio Non so Tieni la porta ben chiusa Finestre Tutto Esatto Poi ti sfonda al soffitto E ti entrati poi FBI open up Per l'immagine È praticamente sempre la stessa rotta del bus Sì ma perché Ma di triangolo Ah Ti ha scritto Vengo a cercare a casa e ti ucciderò Ho scelto Gioni Gioni Via i coltelli Via tutto tutto Via i coltelli Via tutto Esatto Da oggi Si mangia Dai un'altra partita senza robot Un'altra partita senza robot Ha detto anche stai attento Sì ma sicuro sto attento Sì sì Proprio Attento Proprio tantissimo Mai come giocato a Fortnite Chiudi la chiave a casa Tipo poi si sente dalla porta Tipo si sente dalla porta Che Scusa Mi puoi aprire Non me ne frega nulla Di chi sei Non ti aprirò Ma sono tua madre Non me ne frega nulla So che sei tu Fra Va bene Ho trovato Scout Tempesta Eh quello intendo Ma spara sei colpi Non spara sedici Eh Eh appo Ah Ah Ho trovato lo Scaracca Hai un ciuolo della madonna Se neanche la madonna può avere Ho trovato un assalto verde Ora paragoneremo l'assalto verde allo Scar Troviamo le differenze Tutto tranne il modello No il modello Vabbè Che modello Allora è un modello 25 cabrio No No Sei morto Ah ti ascrivi Vabbè stai attento Vabbè Quello era ovvio Ha già chiuso la casa chiave Poi si crea la coda dietro a casa tua Perché tutti sono rimasti fuori casa E non gli apri più Perché continua a dire So che sei tu Francesco Te l'immagini Poi arriva veramente Francesco E dice Dai sono io Apri Tu apri e Francesco ti uccide Vabbè Versi molesti parte 2 Cos'è Cos'è Un alieno che mi entra in casa What? Ha preso le cuffie Forse Io mi vado a succedere E va bene Ma perché No 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 Squadra so Ma sei lontanissimo Non ci arrivo Vabbè Squadra soccorso 2000 Utilizziamo Jump modello XXX Non so neanche che Letta raggiungere XXX La piazziamo Ci lanciamo No 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 Si sta ancora più Succidando Vedo il tuo nome Sciocco Dai no Dai Grazie Dai Dai Stai solo rallentando La tua morte Se continui a far così Sei tu che ti stai fermando Perché io mi muovo Però non mi smetti Sei tu che ti muovo Eh vabbè Ma no ma se io mi muovo Devo smettere Cioè mi smette di rianimarmi Dove c'è Oh che cosa tocchi Cosa vuoi toccare Eh Brutto porco Ma non c'è nessuno In live Com'è Allora stai attendo Ma non c'è nessuno in live A parte io Eh quindi Non ti diverti tu Stare in live Dove pizzerò è andato Oh Che problemi hai No perché c'era Ciao povero Addio povero Poraccio sto poraccio Mi fai talmente pena Che mi suicidi Stavo per suicidarmi davvero Io devo mangiare Io ho bisogno di mangiare Io ho bisogno di mangiare Io ho bisogno di mangiare No Com'è che faccia la canzone Non mi è venuta la colonna sonora No No A me viene Ah TG Cosa TG Cosa Sì forse il TG Non me lo ricordo TG Cosa È bellissimo Che tipo Ma io stavo andando da solo Qua si potrebbero fare Stratanto E i momenti tipo Tipo Ciao ma Aspetta Aspetta Ciao mamma Posso volare Hai presente Nella barriera Che ti fa volare Hai presente Nella barriera Che ti fa volare Ecco Hai presente Che appena esci Proprio ti sbatte a terra Sì Ecco Tra il muro Si potrebbe dire Ciao mamma Posso volare Guarda Salti Arrivi alla barriera E cadi malamente E muori Te l'immagine Che n***a Vuoi un m***a Oh Non c'è più nessuno In live Sono triste Si Ci stavano Vabbè Allora Posso Sfruttarlo No Sì No Sperso Magari C'è ancora Magari Entra Adesso Che lo sto Sfruttando Dice Adesso Vengo a casa E ti uccida Poi Se non mi senti Perché L'ho ucciso Se non mi senti Perché mi ha già Ucciso Ah ecco perché Ho chiuso La live Perché è venuto A casa È venuta Questa tua Sta cercando Dove abito Stankerando Esatto Conferma Indirizzo P È proprio lui Andiamo a uccidere FBI Open up Ma te quindi Stai traslocando No È morto Oddio Buongiorno Mi si è caduto Il joystick Era tutto un prank Dei the show Non l'avevano ucciso Ragazzi Per il prossimo Prank Dei the show Mega epico Arriviamo ad altri 50.000 like Fortuna che non mi ha ucciso Perché mi ha volato Solo il joystick Ho caduto Pure sotto il letto Hai mandato La tua squadra Di ratti A cercarlo Di ratti addestrati I ratti addestrati Hai mandato La tua squadra Di ratti addestrati L'ho pagati Con formaggio E perché li avevi addestrati Comunque Can you Can you Can you play My 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 favorite music Can you Can you Sing My favorite music Schifoso Guardami 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 Vieni Guardami Vieni Vieni Sto ballando Vedi No Ci siamo dati Il cambio Vai Cambio Cambio Che No Vabbè Sì Vabbè Sì Come no Non te lidano mai Dai Hai ma Hai raggi Mia Sì Qua E me li dai Il mio salto Dove sono Eccoli Te l'ho rubato No L'ho preso Io Che Stai Calma Tu Questo Lancia La Due Ma L'avete Dato In dotazione Che Facciano Lo Usa Qua Se Vuoi Ci Sono Queste Faccio Di Toca Un State Calmi Due Questo Nemico Mi Servono I raggi Adesso Sono Chi Ne ho full Ho sempre Gli occhi Chiusi Come Toca Scuscu E sono Sempre Al cerco Me Un Robo Scuscu 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 Brunsoni Dove sei? Un Ciutoni Noi che c'era un amico E il tipo L'ha ucciso Noi che c'era un amico E il tipo L'ha morto E il tipo L'ha morto Faccio Il tattico Nanana 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 Se state bene Il tattico Sta in Estate Dan Nanana 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 Quello Quello Scasso Di Francesco No Scasso Anana Nanana 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 Nanana